Eccoci con il consueto appuntamento della rubrica top 5 video, dove ho messo assieme i 5 migliori video della settimana pubblicati da altri insegnanti di tennis e li ho raggruppati in un'unica pagina, in maniera tale che tu possa vederli senza andarli a cercare a destra o a sinistra. Per vedere questa pagina, per vedere tutti i contributi, è sufficiente iscriversi alla nostra newsletter, c'è il link qui in alto a destra se ci stai guardando sul nostro canale YouTube, oppure guarda la nostra biografia se ci stai seguendo su Facebook oppure Instagram. Nel primo video Greg Lesser di Online Tennis Instruction propone un esercizio molto utile per allenare la profondità nella fase di palleggio centrale. Nel secondo video i ragazzi di Essential Tennis illustrano un esercizio veramente valido per allenare sia lo smash sia il pallonetto. Roberto Babini di Marina Romea parla del dritto al volo, dello schiaffo dove si colpisce la palla senza farla rimbalzare, molto utile soprattutto contro gli avversari regolari. La seconda palla di servizio è meglio giocarla in slice, in kick oppure piatta? A questa domanda rispondono Simon e Alex di Top Tennis Training. Nell'ultimo video Riccardo di Tennis Stars analizza un aspetto tecnico sull'impugnatura del dritto che crea qualche difficoltà soprattutto nei giocatori principianti. Per vedere questi video ti ricordo di iscriverti alla nostra newsletter e se non lo hai ancora fatto iscriviti al nostro canale YouTube, qui in basso c'è il pulsante, per rimanere sempre aggiornato sui contributi che pubblichiamo.